Per il futuro del liceo Mancini la provincia di Avellini è ancora in alto mare. Nulla di fatto dall'incontro della tarda mattinata tra dirigenza scolastica e rappresentanti di Palazzo Caracciolo. Le parti si sono riaggiornate a giovedì. Intanto gli studenti domani a partire dalle 9 sfileranno dalla sede centrale del liceo fino alla provincia per manifestare tutto il proprio malumore. Ed è emersa la volontà di richiedere un dissequestro immediato quantomeno della segreteria per consentire l'acquisizione degli atti da parte della dirigenza scolastica. Intanto si scatena la guerra delle perizie e fa discutere un post dell'ingegner Mario Bellizzi funzionario del comando provinciale dei Vigili del Fuoco che riconosce come unico esperto in tutta questa vicenda il professor Petti. Secondo Bellizzi la chiusura del liceo è stata soltanto una vendetta di quei genitori non contenti dopo il trasferimento dei loro figli da via Scandone. E sulla vicenda interviene anche il presidente dell'ordine degli ingegneri di Avellino, Luigi Masi che lancia l'allarme. Più del 50% del patrimonio edilizio della città andrebbe adeguato sismicamente. E sul caso del Mancini commenta così. Essendo solai di una certa età, quindi ci potrebbe essere la caduta di una parte non del solaio ma della parte intradossale del solaio che anche questa fa male per l'amor di Dio, cioè potrebbe provocare danni per qualcuno. Ma sembra che si tratti di questo. Arrivare poi a dire crollo di alcuni solai mi sembra strano atteso che, almeno da quello che si è letto sui giornali, le verifiche sono state puntuali e precise.